Eccoci qui, ieri eravamo al cuore della città di Budapest in piazza Elisabetta e oggi siamo al cuore della nazione ungherese davanti al palazzo del parlamento che ci ha accolto, ha accolto il Genfest e una delegazione di circa 50 giovani dei 5 continenti. Allora chiediamo a voi com'è andata? È stato molto bello perché si vede proprio che loro ti accolgono e sono rimasta molto colpita da vedere che anche loro aspettano che noi portiamo qualcosa per tutta la città. Il clima di famiglia che si respirava era intensissimo e non soltanto fra di noi prima di entrare dentro il parlamento, ma anche dopo, una volta dentro, nonostante il protocollo, nonostante le formalità, stare lì insieme a parlare, sentire discorsi che venivano dal cuore proprio da parte di queste personalità è stato bellissimo ed è stato un impulso per me, un senso di responsabilità ancora maggiore nei confronti di questa società. Poi vedere la comunione di intenti che le autorità ungherese insieme a noi hanno cercato di dare alla città un seme, come diceva appunto Mario a voce nel suo discorso, un seme che noi dobbiamo far germogliare insieme a tutti gli ungheresi per costruire quello che noi vogliamo. Black Bridge!